Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Andrea di Scommesse.commenti e recensioni.com e assieme a Michele Marcello vi regaliamo ogni settimana i nostri pronostici gratuiti sulle partite dei mondiali in Qatar. Oggi infatti siamo qui per la sfida tra Olanda e Argentina per i quarti di finale. Prima di cominciare vi racconto un po' di cose importanti. La prima è la quantità di quote azzeccate delle scorsi video. Infatti le due sfidanti di oggi, come avevo annunciato prima, saranno Olanda e Argentina. E a proposito, nello scorso video noi abbiamo dato le quote di Olanda USA e Argentina Australia. E adesso permettetemi di leggere tutte le quote azzeccate perché non me le ricordo a memoria, perché ragazzi sono tantissime. Infatti i pronostici che abbiamo azzeccato nello scorso video sono Passaggio del turno e vittoria Olanda Over 1,5 Olanda-Stati Uniti Passaggio del turno e vittoria Argentina Over 2,5 Argentina-Australia E soprattutto il risultato esatto di Argentina-Australia 2 a 1 Pagato ben 11 volte la posta. Ragazzi qua veramente abbiamo sbancato, quindi continuate a supportarci perché continueremo sempre a portarvi scommesse migliori. A proposito di questo vi ricordo due cose importantissime che ormai dovete sapere la memoria. La prima è quella di guardare video fino alla fine per non perdervi tutti i nostri pronostici Perché come ragazzi, come avete visto, tutti i pronostici possono essere vincenti, quindi mi raccomando. Mentre la seconda cosa è quella di mettere like a questo video e iscrivervi al nostro canale per non perdervi tutti i nostri pronostici. Bene, detto questo, cominciamo con la partita di oggi, ovvero Olanda-Argentina. Con il classico Olanda-Argentina iniziano i quarti di finale. A mio avviso è il turno più bello e spettacolare del mondiale, quello che separa la gloria dall'oblio. Olanda-Argentina sarà il remake della finale mondiale del 78, quando i sudamericani guidati da Campes batterono 3-1 gli Orange, privi del loro miglior giocatore, il mitico Johan Cruyff. Da notare che quella era la seconda finale mondiale consecutiva per l'Olanda, che nella sua storia ha disputato tre finali, ovvero 74, 78 e 2010, perdendole tutte e tre. Negli ottavi di finale l'Olanda di Van Gaal ha battuto per 3-1 gli Stati Uniti, mentre l'Argentina di Lomessi, già a tre gol a Qatar 2022, ha sconfitto l'Australia per 2-1. Risultato esatto, danno è correttamente pronosticato nel nostro video su YouTube. Sarà un quarto di finale equilibrato e speriamo spettacolare. Passiamo ora alle quote per il passaggio del turno tra Olanda-Argentina. Troviamo l'Olanda a 2,45 e l'Argentina quotata a 1,55. Come potete notare, gli argentini sono favoriti per il passaggio ai quarti con una probabilità stimata di passaggio del turno del 64,52% contro il 40,82% dell'Olanda. Il nostro panostico sul passaggio del turno Olanda-Argentina verte sull'Argentina. Per quanto riguarda invece le scommesse quote 1x2 tra Olanda-Argentina, abbiamo Olanda-Vincente a 3,55, il pareggio a 3,20 e Argentina-Vincente a 2,20. Il nostro pronostico sulla lavagna 1x2 di Olanda-Argentina verte sull'X2, ovvero pareggio o vitale Argentina nei tempi regolamentari piazzata 1,30. Per quanto riguarda invece il pronostico risultato esatto, analizzando attentamente le due compagini e le quotazioni sul mercato del risultato esatto di SNAI, abbiamo deciso di puntare su queste tre possibilità. La prima è 1x2 pagato 9,75. A seguire 1x1 pagato 6,25 e poi 0x1 pagato 6,50. Per quanto riguarda invece le scommesse e quote Under-Over, abbiamo Quota Under-1,5 a 2,70 e Over-1,5 a 1,40, Under-2,5 a 1,55 e Over-2,5 a 2,30 e Under-3,5 a 1,17 e Over-3,5 a 4,25. Come possiamo notare dallo sbilanciamento verso l'Under-2,5 pagato solo 1,55 contro e ben 2,30 dell'Over e dalla quota molto bassa sull'Under-3,5 a solo 1,17 volte la posta, i bookmaker propendono per un match con meno di 3 gol. Il nostro pronostico sull'Under-Over di Olanda-Argentina verte sull'Under-1,5 che ha pagato 1,40 volte la posta. Prima di continuare con il pronostico vi volevo ricordare che se volete tenere il bonus di Snide a 325€ dovete cliccare sul primo link in descrizione. Ora vi mostro come fare. Se siete da PC dovete scorrere il video, cliccate sul primo link in descrizione, dopodiché vi si aprirà questa pagina. Ora cliccate su avanti e compilate i campi richiesti. Se invece siete da cellulare dovete premere il pulsante in alto a destra. Poi cliccate sul primo link in descrizione, vi si aprirà questa pagina, cliccate su avanti e compilate i campi richiesti. Vi ricordo inoltre che tutti i bookmaker presentati nel nostro canale sono legali al 100% e in possesso di licenza rilasciata dall'Agenzia D'Ogane Monopoli che ne garantisce sicurezza e affidabilità. Eccoci finalmente arrivati alla scommessa combo per Olanda-Argentina. Noi abbiamo deciso di puntare su un X2 più Over 2,5 che è quotato 3,15. La quota finale quindi appunto sarà 3,15 e andando a puntare 10€ andremo a vincere 31,50€. La nostra scommessa quindi sarà vincente con il pareggio o la vittoria dell'Argentina e almeno 3 reti segnate durante i 90 minuti regolamentari. Questa scommessa paga attualmente la bellezza di 3,15 volte la posta, ovvero un potenziale investimento dal ritorno di bene il 215% sul capitale giocato. Vi ricordo inoltre una cosa importantissima, in questo momento tutti i siti di scommesse a AMS stanno sfornando un sacco di bonus per i mondiali in Qatar, quindi mi raccomando ragazzi non perdeteveli. Ci sono due modi per accedere alla parte del nostro sito dove noi vi carichiamo giornalmente tutti questi bonus. Il primo modo è quello di cliccare direttamente sulla sezione bonus commesse mondiali qua sul pronostico, sul nostro sito, mentre il secondo modo è quello di andare nella descrizione di questo video e cliccare sul link che vi rimanderà direttamente a quella parte del nostro sito. Prima di terminare il video vi ricordo che se volete tenere il bonus di Goldbet da 330€ dovete cliccare sul secondo link in descrizione. Ora vi mostro come fare. Se siete da computer dovete scorrere il video, cliccare sul secondo link in descrizione, dopodiché vi saprà questa pagina, ora cliccate su registrati e compilate i campi richiesti. Se invece siete da cellulare dovete premere il pulsante in alto a destra, dopodiché cliccate sul secondo link in descrizione, vi saprà questa pagina, ora cliccate su registrati e compilate i campi richiesti. Per oggi è tutto, se ti è piaciuto questo video ti invito ad iscriverti al canale, attivare le notifiche cliccando sulla campanella e condividere il più possibile in modo da far vincere anche i tuoi amici. Buone scommesse!